Musica Nella manovra correttiva del 2017 troviamo anche una parziale sterilizzazione delle clausole salvaguardie dell'IVA perché rispetto alla riguota agevolata del 10% che ricordiamo si rende applicabile sulla somministrazione di alimenti e bevande si rende applicabile sulle abitazioni seconde case o le ristrutturazioni delle abitazioni seconde case in massima parte l'aumento nel 2018 non sarà più dal 10 al 13% sarà dal 10 all'11,5% nel 2019 diventerà 12% poi alla fine nel 2020 diventerà il 13% l'aliquota ordinaria che si applica per le cessioni e i servizi di tutti gli altri beni che non sono al 4% o al 10% invece nel 2018 è confermato che aumenta al 25% nel 2019 però aumenta solo al 25,4% per ritornare definitivamente dal 2021 al 25% ecco queste sono le parziali sterilizzazioni disposte da questo decreto quello che ci auguriamo è che non sia un segno di un ripensamento rispetto a quello che è scritto nel documento di programmazione economica e finanziaria laddove è indicato l'impegno di rimuovere tutte le clausole salvaguardia con la prossima legge di bilancio grazie